Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Tanto! Ciao, Tanto! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno è a distretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Il frullato Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi un bel frullato Bing preparerà! Flop! Posso avere la mia carota adesso? È quasi pronta, Bing! Ora posso avere la mia carota? Sì, ecco qua! Grazie, Flop! Sembra una carota particolarmente croccante! Particolarmente croccante! Vuoi un po' di latte? Per favore, sì! Grazie! Oh, eccolo! Oh! Oh, la mia carota! Latte! Vuoi qualcos'altro? Banana! 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 È molto matura! Banana! Oh! Non mi piace! È troppo matura! Ah, sì! È davvero molle! Non la voglio mangiare! Bing! Perché non beviamo la banana? Ma che socchezza! Non si può mica bere una banana, Flop! Tu dici che non si può bere una banana? Frulli! Frulli! Frulli il frullatore! I frullati di frutta sono straordinari! I frullati sono straordinari! È il momento del frullato! Esatto! Dai, facciamo un frullato! Alla velocità massima! Certo! Dobbiamo solo mettere la banana nella caraffa, aggiungere del latte, mescolare a bassa velocità, e poi... Velocità massima! Esatto! Guarda cosa sta facendo! Bene! Ora il latte? Sì! Oh no! Mi sta cadendo! No, no, no! Presto, presto! Ce l'ho fatta! Banana? Messa! Latte? Pure! Velocità massima ora! A bassa velocità non si formano i grumi! Se è grumoso sai che cosa succede? Frulli fa... Ok! Sei pronto? Certo! Tu sei pronto? Pronto! Vai! Vai, 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 vai! Banana! Banana! Metto velocità massima ora! È ancora grumoso! Meglio abbassare la velocità! Oh, Frulli fa... Mi gira tutto! Sei pronto? Certo! E tu sei pronto? Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Sono spariti i grumi Sì, ma bisogna mettere più latte Più latte, più latte e poi velocità massima Dov'è la mia carota? Carota Allora Bing Che si fa adesso? VELOCITÀ MASSIMA! Sei pronto? Certo, e tu sei pronto? Pronto! Vai, 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 vai! Dov'è la mia carota? Dov'è la mia carota? Banana! Carota! Frulli alla mia carota! Frulli alla tua carota? Io rivolgo la mia carota! Oh! Frulli ha preso la tua carota! Svuotalo! Rivolgo subito la mia carota! Però non credo ritornerà! Perché? Perché la banana, il latte e la tua carota sono tutti mischiati insieme ora, vedi? Beh, separali di nuovo! No, non posso, Bing! Guarda qua! Frulli ha fatto uno squisito frullato di banana e carote! Provalo, Bing! Mmm... 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 Ciao! Flop mi ha dato una carota croccante che faceva... Du du ru du ru tu tu banana! Ma la banana era tutta molle! Così abbiamo dato la banana molle e il latte a Frulli! E Frulli ha mescolato tutto insieme! Poi però si è preso anche la mia carota! E non è stato carino! La mia carota non usciva più! Così abbiamo fatto un frullato di carota e banana ed era veramente delizioso! Quando fai un frullato dopo non puoi più separare le cose! Fare un frullato è una cosa da Bing! Io adoro i frullati! Io adoro i frullati! Café il reso! Sì! C'erdo! Sì! Sì! Grazie a tutti.